Bisogna dire la verità, non è una bella vigilia dell'esordio in campionato per il Giarre, che domenica renderà visita al Via Grande per la prima giornata del Girone B di Eccellenza. Alfonso Benedettino due giorni fa si è fermato per una contrattura, anche se ieri ha ripreso a correre, o perlomeno ci ha provato. La condizione del playmaker resta precaria, e allora scalpita per una maglia da titolare Davide Messina al fianco del Baby La Spina in mezzo al campo. Ma ieri ha dovuto interrompere l'allenamento anche Daniel Aleo, fortemente debilitato dall'influenza. Mister Maurizio Romeo, piuttosto che forzare il suo bomber, è tentato dal dare una chance a Marius Dumitrascu, che ha superato i problemi alla caviglia e ha fatto bene la preparazione. A Via Grande non ci sarà nemmeno il giovane difensore Leotta, anche lui infortunato.